Una cerimonia sobria, un momento di raccoglimento in ricordo di Gatano Giordano, 24 anni dalla sua uccisione. Si è svolta ieri nei locali dell'associazione antiracket che porta il suo nome, presenti numerose autorità civili e militari. C'era anche la moglie del profumiere, Franca Evangelista. Giordano aveva 55 anni quando il 10 novembre del 1992, sotto casa in via Giovanni Verga, fu freddato dai killer. E' in auto, assieme al figlio Massimo raggiunto da un proiettile che lo colpì al braccio. Giordano aveva sfidato la mafia gelese dicendo no alle estorsioni. E' una commemorazione importantissima per questa città perché è l'evento tragico che però ha dato avvio a una reazione collettiva, avvio a una situazione diversa in cui i commercianti denunciano. Adesso però lo Stato è anche più presente rispetto al 1992. E' più presente, sì è vero, ma è meglio non abbassare la guardia. Gaetano Giordano, un eroe che oggi è doveroso ricordare perché ha instillato nel popolo gelese quella voglia di riscatto che poi oggi è sotto gli occhi di tutti. Un ringraziamento particolare va proprio alla città della comunità gelese, perché è una comunità che ha dimostrato di saper reagire, di saper dare una risposta anche grazie all'aiuto delle istituzioni. Oggi possiamo dire che Gela è una città diversa, non è ancora completamente libera da questo purtroppo terribile fenomeno, però l'impegno per arrivare a un risultato obiettivo ce lo stiamo mettendo tutti. Però a Gela fortunatamente non si spara più, ma questo non vuol dire che la mafia non è presente, probabilmente c'è una mafia silente. Ma i risultati lo dicono, purtroppo è ancora presente, radicata e perniciosa sul territorio. I risultati sono quotidiani, ma l'attenzione anche delle forze di polizia è quotidiana, quindi contiamo di dare un grande contributo a questa città. Il presidente dell'antiracket di Gela, Renzo Caponetti. Ci sono tanti commercianti e tanti imbritori che attualmente non denunciano. Noi siamo qui per questo, per aiutarli ancora di più ad alzare la testa dal gioco mafioso. E questo si può fare semplicemente di essere tutti uniti assieme ed essere più forti, perché prima una volta quando eravamo soli ci individuavano e a volte anche qualcuno veniva ucciso. Adesso questo pericolo non c'è più. Ha mai avuto paura, timore dell'attività che svolge? È una cosa normale avere paura. È capitato, sì, è capitato soprattutto, voi lo sapete, quando ho avuto quei due attentati. In un primo momento così mi era passata la testa di andare via da Gela, ma solo proprio momentaneamente, poi subito dopo questa idea mi è passata via. Se si fuggi da Gela vuol dire che si fa il gioco della mafia? Certamente, invece noi, quei delinquenti, quei mafiosi, devono andare loro via da Gela. Noi dobbiamo restare sempre qui.